Ripartiamo andando ad Albino per parlare ancora di diritto allo studio. Il piano per gli interventi presentato in consiglio dall'assessore all'istruzione Andrea Chiesa è stato infatti bocciato dalle minoranze che hanno votato contro. Nel servizio di Arnaldo Minelli sentiamo per quali ragioni la lista Rizzi ha fatto questa scelta. L'assessore si era ammaricato per il fatto che il suo piano diritto allo studio ha incassato il voto non favorevole da parte di tutti i tre gruppi di minoranza. Francamente anche un voto di astensione sarebbe stato veramente difficile assicurarglielo di fronte a un documento così scarno, così povero, così misero. Le precedenti amministrazioni di Albino avevano fatto esperienza e avevano messo a punto un documento veramente formidabile. Era uno strumento veramente elastico, duttile, con cui chiunque dal genitore all'amministratore al giornalista poteva muoversi con tranquillità, con semplicità nel vasto panorama che è quello della scuola. Purtroppo in questo documento prodotto dall'assessore tutto questo è venuto meno, è caduto veramente nell'oblio. Un lavoro fatto per anni è stato buttato alle ortiche. Nel documento del piano diritto allo studio non vi era nessun riferimento su importantissimi servizi che il Comune eroga alla cittadinanza, agli utenti, ai nostri ragazzi come il servizio mensa. Non vi era nessuna traccia neanche della commissione mensa che Albino ha. Non c'era un report della commissione mensa su quanto era stato fatto nell'anno precedente, nell'anno scolastico precedente. Non c'era nessun riferimento sul servizio trasporto, il nuovo appalto, nessun riferimento su quelli che sono i servizi dati a sostegno dell'handicap nella scuola. Ora l'assessore si è lamentato dicendo che non è questione di numero di pagine, ma le pagine che mancavano portavano al loro interno dei contenuti importanti. È una questione di trasparenza. Tutti questi servizi, che sicuramente il Comune garantisce, perché è sotto gli occhi di tutti, la mensa c'è, il servizio trasporto c'è, però non sono contemplati in questo documento. Se vogliamo poi entrare anche dal merito, gli stanziamenti che il Comune si ripromette di dare per il sostegno a quelli che sono gli interventi, i progetti speciali delle scuole a sostegno del piano dell'offerta formativa, anche qua un qualcosa lo avremmo da ridire. Non ci sono finanziamenti relativi ad esempio a quelli che sono gli arredi scolastici, nulla per quanto riguarda le attrezzature speciali a sostegno ancora dei portatori di handicap. Pochissimo veramente è stato stanziato per quanto riguarda il materiale informatico e per quanto riguarda poi i progetti culturali, quella sinergia che sempre si attiva tra l'assessorato, l'istruzione e quello della cultura e la biblioteca, veramente non abbiamo nulla di nuovo. Assessore, di fronte a questo piano dito lo studio, un voto positivo o un'astensione era veramente impossibile assicurarli. Una volta il semplice cittadino, il genitore, aveva di fronte a sé un documento attraverso il quale poteva spaziare in questo variegato mondo che è quello della scuola. Adesso deve andare a fare il salto in banco nei vari uffici a cercare quello che è il trasporto scolastico piuttosto che la messa, quali sono le tariffe, i costi e così via.